Gli agricoltori della fascia che va da Grigento a Caltanissetta occuperanno simbolicamente nella mattinata di domani i campi attorno a Grotte Rossa per manifestare contro la realizzazione dell'impianto di biometano. Al centro della contrapposizione è il progettato insediamento proprio nella zona di una centrale per la produzione di biogas derivati da rifiuti solidi urbani. Il timore degli agricoltori è che l'impianto possa nuocere ad una delle aree più vocate da un punto di vista agricolo del territorio, soprattutto per le produzioni di alta qualità. Secondo i vertici di NRC l'impianto sarebbe conforme a tutte le prescrizioni di legge ma gli agricoltori non sono convinti e domani lo manifesteranno pubblicamente. Con loro anche i vertici dell'Udc che scenderà in campo con tutti i big. È un impianto che nasce come biometano ma in realtà prevalentemente sarà alimentato da rifiuti solidi urbani, il che lo trasforma in un impianto di riciclaggio a tutti gli effetti che normalmente seguono altre procedure autorizzative e sono fatte in aree diverse da quelle agricole. Qui siamo tra l'altro in un'area agricola di particolare pregio come quella di Grotta Rossa dove c'è l'IPG delle pesche, l'IPG dell'Uva Italia e il DOC Sicilia. Quindi ci sembra una conferma di come i nostri territori vengono continuamente mortificati anziché essere valorizzati a maggior ragione in un periodo di crisi come questa. Presente anche l'Udc cittadino capeggiato dal segretario Salvatore Incardona. Questo è il risultato di quello che è stata la nostra campagna elettorale. Abbiamo iniziato ad incontrare la gente, non ci siamo arroccati all'interno dei palazzi e delle sedi di partito. Quello che è sotto gli occhi di tutti è che il Sud ancora una volta viene sfruttato e a discapito degli abitanti, in questo caso degli agricoltori. Noi chiaramente tutti uniti, come diceva il segretario provinciale, addirittura interverrà anche la segreteria nazionale in persona dell'onorevole Cesa. Saremo uniti, occuperemo in maniera da lanciare un segnale forte ai propri campi perché vogliamo essere accanto alla gente, accanto agli agricoltori siciliani.